Scopri come diventare socio su Banca di Pisa.it Banca di Pisa e Fornacette è aderente al gruppo bancario cooperativo ICREA Messaggio pubblicitario con finalità promozionale Siete pronti? Ai magazzini mangini facciamo grandi sconti E con orario continuato fate shopping illimitato Ma non venite il lunedì, il lunedì siamo chiusi tutto il giorno Siamo aperti dal martedì alla domenica con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30 Magazzini mangini alla rosa di Terricciola, dov'è di moda risparmiare? Adesso shopping illimitato con l'orario continuato e biancheria abbigliamento a prezzo scontato Essere o non essere CNA è più nobile frenare la lingua e soffrire Tacendo davanti al diniego del direttore della banca O entrare in CNA, accenderla tenzone e avere il credito per il nuovo capannone Essere o non essere CNA? Meglio essere, per credere finalmente al credito entra in CNA Vieni su esserecna.it CNA imprese, nessuno ti dà di più Per la serie cose incredibili che neanche immagini Le lumache hanno quattro nasi Starnutire a occhi aperti è impossibile La tessera ACI dà l'assistenza geolocalizzata alla persona e non solo al veicolo Associati all'ACI, hai la sicurezza di proseguire sempre il tuo viaggio In Italia e all'estero L'Automobile Club Pisa è in via Cisanello 168 Da sempre i nostri punto Acque si contraddistinguono per la cortesia e la professionalità Delle proprie operatrici e dei propri operatori Da oggi, con la videochiamata, raggiungerli diventa ancora più facile Dai valore al tuo tempo Contatta Acque Spa con una videochiamata Direi elettrica Io direi ibrida Beh, direi Renault Nella nostra gamma c'è tutta la scelta che vuoi Nuovo Captur Plug-in Hybrid con cambio multimod e fino a 65 km in elettrico Con Renault Best for You tuo da 199 euro al mese grazie a oltre 8.500 euro di vantaggi In caso di pronta consegna con rottamazione e incentivi statali TAN 525, TEG 6 e 29, salva approvazione fin Renault, info in sede E con la Test Drive Experience provi la mobilità elettrica che fa per te Concessionaria Class vi aspetta nei suoi showroom A Pisa in via Pindamonte 3, Livorno via Firenze 124 e a Cecina in via Aurelia Sud 28 Per la tua pubblicità su Punto Radio e Cascina Notizie Chiamalo 050 710071 O scrivi a commerciale at punto radio punto FM Alfabeto Digitale Per parlare del mondo digitale e delle sue principali applicazioni La trasmissione ideata dal professor Domenico Laforenza Ha lo scopo di informare con un linguaggio semplice e diretto gli ascoltatori Sugli strumenti digitali, sulle loro applicazioni e potenzialità Ma anche sulle problematiche derivanti da un loro uso distorto o inconsapevole Oggi nel nostro paese manca ancora una diffusa e consapevole cultura digitale Soprattutto fra i diversamente giovani E purtroppo sono ancora tanti quelli che non sanno usare gli strumenti digitali Uno smartphone, un computer E non ne comprendono le loro grandi potenzialità Alfabeto Digitale Perché come avrebbe detto il maestro Alberto Manzi Non è mai troppo tardi Anche per imparare ad usare la rete Eccoci qua Buongiorno Sembra di aver mai finito terminato Credo che questa sia una delle sigle più belle che noi abbiamo avuto E una delle sigle più belle che io ho ascoltato Perché dentro ci sta tutto E noi siamo orgogliosi di poterlo fare Per la presenza del professor Domenico Laforenza Buongiorno Buongiorno a tutte e a tutti A tutte e a tutti Senti come è puntuale Certo Si condisce mica con l'acqua La politica di genere Allora intanto uno che vuole rivedere o risentire le puntate precedenti Mimmo te sottolinei che outreach.cnr.it possono sulla sezione scuola e università riascoltarle Quindi è una memoria storica che è utilissima secondo me perché non è una traccia che poi evapora No, lì la puoi riascoltare E vi posso garantire se avete perso qualche puntata Andate, cliccate e risentitela perché è molto molto utile È veramente un manzi al quadrato dopo 50 anni Gli argomenti della puntata Mimmo perché mi sembra aver capito che si parla 1G, 2G, 3G, 4G, 5G Che non sono le classiche della prima alla quinta Ma è l'evoluzione che oggi porta al discutere tra l'altro con mille polemiche Direi non so quanto strumentale ma questo ce lo spiegherete E 5G ecco ci vogliono condizionare È il male di tutti i mali Sono quelli che ci toglieranno la libertà Cioè questo 5G è stato presentato come il diavolo assoluto Mimmo Sì, diciamo noi siamo partiti l'anno scorso in febbraio, marzo Partendo da quell'oggetto che tutti hanno Che è il cellulare, lo smartphone, il telefonino Noi di fatto oggi ripartiamo da questo Però partendo dalla questione legata alle comunicazioni senza filo Le cosiddette comunicazioni wireless Permettimi Mimmo, sai quanti smartphone ci sono, telefonini ci sono in Italia oppure Diciamo che nel mondo hanno superato i 7 miliardi fondamentalmente di telefonini 7 miliardi Sì, in Italia hanno di gran lunga superato la popolazione italiana Che è intorno ai 61 milioni di abitanti Quindi diciamo l'ordine di grandezza è questo Significa che bene o male ognuno ha un telefonino Quindi da questo nasceva anche la necessità di partire da quello che E non ci può dire ma quello piccolo non ce l'ha, quell'anziano non ce l'ha No, no, ce l'hanno i piccoli e ce l'hanno gli anziani Ci possono essere differenze di qualità Sì, sì Che ha il smartphone, che ha il vecchio cellulare Allora partiamo da questa questione Noi diciamo il punto è le comunicazioni senza fili Però noi siamo una trasmissione dove si fa informazione, si fa cultura digitale Ci tengo Cioè dobbiamo partire da quei principi nobili Che poi fanno capire perché siamo arrivati oggi a smanettare con Whatsapp Su un oggetto di metallo, di vetro, di alluminio e così via Che si chiama smartphone Allora partiamo subito dal discorso delle comunicazioni senza fili E prendiamola da lontano Fondamentalmente il concetto nasce che Dal momento in cui tu hai un filo Percorso la corrente Si è continua, si è alternata Intorno al filo si creano dei campi magnetici Questo è fondamentale Quindi un filo percorso la corrente Intorno al filo si creano questi campi magnetici Perché dici questo? Dico questo perché Questo già nel 1800, nel 1802 Scienziati come Orsted Che era uno scienziato danese, un fisico Però anche il nostro Gian Domenico Romagnosi Che aveva studiato questo Avevano capito che se si faceva A un certo punto attraversare la corrente un filo Intorno si generava un campo magnetico E allora a un certo punto Si va avanti negli studi Fino a che un tal Maxwell Questo Maxwell vi dice qualcosa a voi? Sì, mi ricorda i nostri Per registrare, le cassette Ma mi ricorda anche qualche calciatore Certo, certo, questo lo sa lui Ecco, nulla di tutto questo Nulla di tutto questo Perché questo James Maxwell Era un matematico E un fisico scozzese Il quale teorizza La questione legata alle cosiddette Onde elettromagnetiche Cioè tutto quello che viene generato Da corrente elettrica Che produce un campo magnetico Che può essere trasportato come onde Maxwell di fatto definisce Teoricamente queste cose Definisce anche delle equazioni famose Che chiunque studi Elettronica, elettrotecnica Deve sapere queste cose Quindi noi Praticamente come radio Siamo un telefono senza fili Sì Quindi Non lo sapevamo Che succede? Succede che questo Maxwell Definisce queste teorie Notate che stiamo parlando Del 1837 31 Più o meno insomma In quella zona là E dopodiché Questa è ancora teoria Finché non arriva un signore Che si chiama Si chiama Hertz Che non è quello delle automobili Ovviamente E delle batterie E delle batterie E 4 Hertz 8 Hertz La punto radio Trasmette sulle frequenze Di 91.1 Mega Hertz Quindi milioni di Hertz Questo Hertz Per la prima volta Prendendo le teorie Di Maxwell Le trasforma in realtà E costruisce Quello che si chiama Un oscillatore Per produrre Onde E elettromagnetiche Fondamentali Quindi E lui La persona più importante Di questa evoluzione No Sono tutti importanti Notate che in tutto questo Noi stiamo parlando Vuoi dare importanza Stiamo parlando Dei Maradona Stiamo parlando Dei Dei Pelè Delle persone che hanno In realtà intorno a loro Ci sono stuoli di ricercatori Di assegnisti Di ricercatori vari Professori universitari vari Che lavorano tutti Per un obiettivo Questo è l'importante Ma quello che vi voglio sottolineare Che prima di parlare di 5G Dobbiamo parlare Da dove arriviamo Stiamo arrivando Da queste ricerche Che senza di queste Noi oggi Non potremmo comunicare Né in 4 Né in 3 Né in 5G Ci siamo Poi nel tempo Vi riei nel tempo Parliamo già del 1891 Arrivano altri Ronaldo Della situazione Alfi Pelè Che si chiamano Nikola Tesla Tesla qualcuno Lo confonde Quello delle auto No Quello delle auto Si chiama Elon Musk Che è un imprenditore Sudamericano Scusate Sudafricano Che di fatto Ha avuto il pallino Per l'innovazione Diciamo I missili I satelliti Intorno alla terra E così via Però Nikola Tesla E' stato un grandissimo Personaggio Origine italiana No Lui era Diciamo Era dell'impero Ostrungarico Però fondamentalmente Era di quello che oggi Si chiamerebbe La Croazia Ma la sua famiglia Era una famiglia serba Quindi diciamo Era una persona Che viene da quelle parti Naturalizzato americano Diciamo statunitense Che ha fatto tantissime cose Tantissime cose Nel campo dell'uso Anche dell'uso Delle onde elettromagnetiche Per comunicare Per comunicare Fra postazioni diverse E lui se l'è Diciamo Giocata Molto Con il nostro Grande Diciamo Marconi Quindi Il momento in cui Noi arriviamo A Diciamo Stiamo nello stesso periodo Fra i due C'è diverse Diciamo Diverse battaglie Per chi Di fatto Ha utilizzato Le onde elettromagnetiche Per comunicare Per comunicare Messaggi Per esempio La telegrafia Tutto quello Che riguarda La telegrafia Il nostro Grande Diciamo Guglielmo Marconi Ha dimostrato Che si potevano Utilizzare Questi strumenti Per comunicare Questo è il discorso Comunicare Ovviamente Non possiamo Noi non pensare Che a Guglielmo Marconi Che nel 1909 Prende il Nobel Per la fisica E lui di fatto Poi Personaggio Eclettico Capisce Che queste cose Bisogna metterle In pratica 1909 Quando è nato Il Piso Sì Notiziale No Il Piso Il Piso Il 1909 Diciamo che è uno Spartiacqua Marconi Marconi Si potrebbe parlare Per ore oreo Di Marconi Ma dobbiamo Arrivare A noi Lui addirittura Nel 1903 Crea il centro radio Di Coltano Oggi purtroppo Un vulvere Diciamo Abbandonato a se stesso Se fosse stato Esiste In Inghilterra Un bellissimo Museo Centro Dedicato a Marconi Cosa che noi Non abbiamo Noi abbiamo A casa sua Diciamo Bologna Però Parte questo Però quello che conta È che Non tutti sanno Che questo centro Fu utilizzato La seconda guerra mondiale Per comunicare Con le allora Colonie italiane In Africa E quindi Comunicare anche Con le navi Quindi un Mello di comunicazione Poi ovviamente Pochi sanno Che nel 1931 Lo stesso Marconi Utilizzando Il centro di Coltano Importante Pigiando un bottoncino Va ad accendere Le luci Del grande Grande stato Del redentore A Rio de Janeiro Quindi Marconi Poi Marconi Io Un motivo in più Per citarlo Laddove questo Fosse necessario E che dal 1927 Al 1937 È stato Il presidente Del consiglio Nazionale di ricerca Ente A cui io Mi onoro Di appartenere ancora Il tuo ex capo Ecco E quindi Arriviamo A questo punto Alla trasmissione Di oggi Quindi dietro Quello che oggi È tecnologia Dietro oggi Quello che si vede Si può comprare E affittare C'è una valanga Di teoria Senza la quale Non saremmo mai Arrivati A quello Quindi la ricerca È fondamentale Anche se alle volte Può sembrare naif Ma dopo 300 anni O 30 anni Si può dimostrare importante E' giusto definirli Come Maradona Del mondo Scientifico e tecnologico Come diciamo Diciamo delle colonne Ma in realtà Intorno a queste colonne Ci sono centinaia e migliaia Di ricercatori e ricercatrici Che tutto il giorno Lavorano Per dare un supporto E poi ci vuole il fuoriclasse Il fuoriclasse L'IGS per il bosone E cose del genere L'Einstein Allora a un certo punto Noi parliamo di queste onde elettromagnetiche Si scopre L'importanza di utilizzarle Per comunicazione Quali comunicazioni? Le comunicazioni radiofoniche Le comunicazioni televisive Le comunicazioni radar Le comunicazioni satellitari E anche le comunicazioni cellulari Cioè la telefonia mobile Allora a un certo punto Cominciamo a parlare Degli anni Siamo intorno Agli anni 80 Si parla Diciamo Fine 70-80 Di generazione zero Non so se voi ricordate C'erano delle valigioni grosse In cui si concentrava Il cellulare dell'epoca Con batterie al piombo Pesantissime eccetera Quella generazione E' una generazione Che viene chiamata Completamente analogica Quindi tutto quello Che è digitale I bit eccetera Arriveranno con Diciamo Con la seconda generazione Quindi fra la generazione zero E la generazione uno C'è un certo ritardo Degli 80 Al 90 Notate che queste generazioni Quindi Zero G Si parte da questo Uno G Tipicamente arrivano Due G Tre G A distanza di dieci anni L'una dall'altra Perché? Più o meno No è un fatto diciamo Posso fare una domanda Prego Perché si dice G? Generazione Generazione Generation First generation Seconda generazione Seconda generazione E così via Nulla che vedere Con altre cose Va bene Allora detto questo Quindi E si parla poi Nelle comunicazioni Ovviamente A quanto veloce Vanno le informazioni No? Voi pensate Che la prima generazione Caratterizzata appunto Da un mondo analogico Si parlava solamente Si parlava solamente Di voce Quindi non c'erano i dati Non c'erano gli sms Non c'erano le fotografie Che tu potevi smandare A destra e manca Noi parliamo Di 2,4 kilobits 2.400 bit Al secondo Quindi è come avere Un tratturo Diciamo Di campagna Un asinello Che chi andava Un asinello Però si poteva Complicare Poi a un certo punto Un altro problema Di questa Prima generazione Era il fatto che Si le informazioni Potevano essere Identificate Potevano essere Captate Con delle radio Vicino alla zona Dove si comunicava Perché le comunicazioni Erano in chiaro Cioè non erano criptate Cioè non venivano Nascoste da un codice Quindi si sono vinte E perse guerre Anche Mimmo Per questo Sì Diciamo Le guerre sono Intercettare I messaggi Però quello che conta È che Qui stiamo Ai primi vagiti Dell'attività Di comunicazione Mediante Diciamo Telefonia mobile Cellulari Anche i cellulari Evolvono di conseguenza Infatti quando poi Vedremo che Quando tu hai Una generazione I cellulari Si devono adattare A quelle generazioni Addirittura Certe volte Bisogna cambiarle Completamente Poi arriviamo Al 2G Beh il 2G È segnato Da un elemento Importante Che per noi europei Ci rende felici Che a un certo punto Una Per decidere Di standard Ci sono Dei Si chiamano Entità Bodes Istituti Uffa Questi istituti C'è uno che si chiama ETSI E-T-S-I Che sta per Istituto europeo Per gli standard Di telecomunicazione Sta in Francia Io l'ho visitato A Sofia Antipolis Che vicino a Nizza Sulle colline Questo è un centro Di standardizzazione Dove si parla Degli standard Per le telecomunicazioni In particolare Fanno anche altro Loro Tirano fuori Dal loro cilindro Tirano fuori Il cosiddetto GSM Il GSM Il GSM Sta per Global System For Mobile Communication Se diciamo Un sistema globale Per la comunicazione Mobile Quindi è uno standard Standard che prende piede E cominciano a costruirsi Infrastrutture Utilizzando Come base Questo standard Questo standard È uno standard Digitale Quindi entriamo Nel mondo digitale Questo standard Permette A un certo punto Una questione Che oggi per noi È tutto normale Permette il testo Gli SMS Si cominciano con gli SMS Poi le generazioni In realtà Non c'è mai un taglio Generazione 1 Generazione 2 Generazione 3 Ci possono essere anche Delle generazioni intermedie In questi dieci anni Due e mezzo Due e mezzo Diciamo Tre meno un quarto E cose di questo genere Allora Arriviamo a tutta una serie Di versioni Versioni Per arrivare Negli anni 2000 Al 3G Il 3G È caratterizzato Da un'altra sigla Che molti di noi Pronunciano Ma che spesso Non sanno Che si chiama UMTS UMTS È ovviamente Il GSM Di cui abbiamo parlato prima È la base Su cui si costruisce tutto Cioè C'è sempre un avanzamento In che termini In termini di Velocità di trasmissione Quindi siamo passati Dai 2,4 Kbps Siamo passati Alla seconda generazione Siamo arrivati A 250 Kbps Poi arriviamo Alla terza generazione Dove la velocità massima È intorno Alla decina Di megabit al secondo Quindi vedete Da chilo Mega Perché ogni 10 anni Mediamente Questo è una Diciamo È un fatto empirico Non è che si Sembra strano Sì no Sembra strano Ma è una costante Diciamo Che mediamente Si vengono a tirare fuori Questi ritrovati A distanza di 10 anni Non c'è una legge scientifica Su questo Però c'è anche C'è anche delle leggi di mercato Che impongono E poi c'è una questione Forse Forse Sì Anche la questione Che non tiri fuori subito Quello che tu hai al meglio Sai nei cassetti Dei centri di ricerca C'è tantissima roba già pronta Che non si tira fuori Per non distruggere Quello che si chiama Legacy Cioè le precedenti Diciamo Generazioni di strumenti Anche se no Avremmo buttato via i soldi Però questa è una ragione Ma poi c'è la questione Che gli standard Richiedono tempo E si arriva a un certo punto Si arriva A quello che è la quarta generazione Voi quando Prendete i telefonini A un certo punto Uno vede sopra Edge Vede sopra Edge 3 3G Vede sopra 4G Sarebbero praticamente Che quel telefonino In quel momento Rispetto alla zona Dove si trova Sta lavorando Con protocolli Di quarta generazione O di terza generazione Infatti adesso In alcune zone Quando Porca miseria Prende la E Prende la H Non c'è 4G Ma ora Non riesce a caricare Perché dipende Dalla stazione base Dalla zona in cui ti trovi Da qual è la tecnologia Facciamo un appello Il centro storico di Cascio È uno dei peggio serviti Di tutto Davvero Vabbè Dal punto di vista Betti pensasi Dai Dal punto di vista Dell'utilizzatore A un certo punto Si cominciano a vedere Con la 3G E il 4G In particolare La possibilità Di utilizzare La multimedialità Quindi Io mando un filmettino Riprendo col mio cellulare E mando un amico Poi ti arrivano Whatsapp Ti arrivano le piattaforme Per gestire La messaggistica Per gestire Tutto quello Che è multimediale E quindi siamo E quindi siamo Siamo ai tempi nostri Si si fa tutto adesso Siamo ai tempi nostri E quindi il 4G Diciamo che è partito Intorno al 2010 Siamo a quasi 10 anni A 10 anni Siamo nell'avvento Del 5G Ora il 4G Ne ha ancora Per molto Deve durare Ancora per molto Però Le velocità Fondamentalmente Che il 4G Permette Quindi parliamo sempre Di wireless Sono intorno ai 100 megabit Per secondo Diciamo Bit in più Bit in meno Questi sono Al secondo In un secondo Vengono a 100 milioni Di bit per secondo Ovviamente Quando si arriva Questo è come Il tachimetro Della macchina Può segnare anche 240 Ma tu al 240 Non ci arrivi Se è un altro Perché la strada Che hai sotto mano Non ti permette Di arrivarci È graduale L'aumento Dal primo Al 2 Al 3 Al 4 Al 5 Non sono graduali Nel senso Per il 5 Ci sono dei salti enormi Dopo tutta la storia Del 4 E del 3 Il 5 È una bomba Il 5 Infatti Adesso parliamo Delle caratteristiche No no Non ne voglio parlare Prima È un effetto Esponenziale Dal primo Al 4 Che è stato costante Oppure Oppure no No Non c'è molta costanza Perché parliamo Di kilobit Parliamo solamente Di salti Diciamo Di mille in mille Se vogliamo Parliamo di bit Kilobit Quindi moltiplicati Per mille Megabit Moltiplicati Per 10 Alla 6 Per un milione Gigabit Moltiplicati E poi le reti Diciamo Quelle in fibra ottica Non parliamo adesso Di reti Wireless Qui parliamo invece Dei cavi Quelli che si fanno I book Si passano sotto Le strade Le case Eccetera Le reti in fibra Quelli hanno target Intorno ai tera Quindi sarebbe 10 Alla 12 Ma secondo te È costante anche Nel numero Si arriverà al 6 Al 7 All'8 All'9 All'10 C'è un limite Oltre il quale È impossibile andare No limiti Non ce ne stanno Nella scienza La velocità della luce Però questo ripeto Per la scienza I limiti Sono via via Infranti negli anni Possono poverci 10 anni O due secoli Ma poi Si va a infrangere Questo Ora il punto qual è Quindi Il punto è che Noi con questi cellulari Ci facciamo tante cose Ma non solo i cellulari Ma anche le macchine Le automobili Comunicano con le altre automobili Soprattutto ora Le case Comunicano Nella casa Il frigorifero intelligente Oppure il termostato intelligente Tutto quello che riguarda L'automotica Allora Il 5G È una generazione Che segue ovviamente Il 4G Ovviamente le generazioni Vanno a sovrapporsi Voi oggi Utilizzate il 4G Ma potete utilizzare anche Il 3G O il 2G addirittura A seconda della zona In cui vi provate Certo La copertura Del segnale Ora detto questo Che succede Che il 5G Di fatto Muove una Valanga di soldi Intorno a sé Qualcuno parla Stime Abbiamo detto Che è un'evoluzione Tecnologica Che ovviamente È composto Di nuovo hardware Nuovo software Nuova tecnologia Di trasmissiva Un protocollo Più veloce Rispetto al 4G Ma dal punto di vista Del macroscopico Cos'è questo 5G Cominciamo a dire Che le velocità Che le velocità Del 5G Partono Diciamo Da gigabit Al secondo Quindi Da 10 Alla 9 Bit Al secondo Quindi Miliardi di bit Al secondo E via via Si spostano Nel tempo Fino ad arrivare A target Intorno agli 800 Gigabit Al secondo Questo sono Diciamo I limiti Di questo tipo Gigabit Al secondo E quindi Che significa Immaginate voi C'è un'altra Diciamo Un altro paragone Si può fare Immaginate un fumiciatolo Di Diciamo Larghezza 10 metri E lunghezza Quanto ve ne pare Immaginate Che l'allarghiamo Quindi aumentiamo Quella si chiama La banda Diciamo Di comunicazione L'allarghiamo La portata Dell'acqua Che ci scorre dentro Aumenta Ovviamente Sempre che ci sia acqua E quindi Questo si chiama Diciamo La possibilità Di aumentare Il numero Di bit Al secondo Che noi Immettiamo In queste reti Questo che significa Ovviamente Che io Contemporaneamente Posso trasmettere Dei film Posso trasmettere Messaggi Voce Fare una lezione A distanza Smart working E cose di questo genere Quindi tutti I momenti Di Crisi Di Connessione Saltate Durante Il lockdown Quando tutti Si andava Su Varie piattaforme Che non si vedeva bene Non si sentiva Dovrebbero essere In buona parte Risolti con questo 5G Sì Il momento in cui C'è la copertura È proprio quello Non ci dimentichiamo Ci sono due paesi Il nostro paese In particolare Dove non c'è la copertura Neanche del 3G Neanche dell'1G È questo È questo Ma indietro come il rete Però questo Adesso ne parliamo un attimo Sulla politica Adesso parliamo di cos'è il 5G Per far capire Quindi maggiore velocità Maggiore capacità Larghezza di banda È una minore latenza Cos'è la latenza? Quando io mando un messaggio Da me a te E mi ritorno indietro È il tempo Che il messaggio percorre Per raggiungersi E tornare indietro Siamo a latenza Che significa questo? Traduciamolo Per far capire Che di fatto Qui si arriva a latenza Sotto il mille secondo D'accordo? Che significa Che possono essere permesse Con così Delle applicazioni Di realtà aumentata Augmented reality A R Lo trovate scritto Che sono per esempio Simpaticamente Fanno vedere Un tempo di reazione Rispetto ai giochini Che voi fate alla televisione Rispetto alla playstation Che vi pare Ma Queste sono le questioni Per i giochi Che è un business enorme Ma pensate a chi opera Da mille chilometri di distanza Come una sala operatoria Robotica Che sta Ripeto A un ospedale A mille chilometri di distanza E lo specialista Sta dall'altra parte del mondo Allora Il tempo di reazione Che lo specialista Muove Diciamo Il suo I suoi La sua mano artificiale Con cui partono i comandi Attraversano la rete E vanno a dire all'attuatore Taglia Cuci Apri Eccetera Più Diciamo La latenza È bassa Più il realismo Di quello che tu fai In quel momento E quello che tu vedi Sullo schermo Che hai fatto C'è sempre un certo ritardo Gioco un fattore importante In questo caso Gioco un fattore importante Agli effetti Decisivo Della operazione Decisivo Diciamo Della vita del soggetto Assolutamente E poi c'è Tutto quello che riguarda I gradi di realismo Quindi Abbiamo detto Una bassa latenza Una capacità di Invio Di bit Sempre maggiore Un'altra questione Importantissima È che La Diciamo Di possibilità Che io Su un metro Un chilometro quadrato Di territorio Possa Gestire Sempre maggiori dispositivi I dispositivi Non sono solamente Telefumine Sono il frigorifero Intelligente Che c'hai in casa Ah quindi si parla di domotica Domotica Ma sono anche il sensore Che tu metti assieme Alla vite Per capire Qual è la composizione Del terreno L'humus del terreno E poter capire Se devi dare Dell'acqua Non devi dare Dell'acqua In quale quantitativo Quindi Questo significa Che i dispositivi Questi dispositivi Diventano Esponenzialmente Sempre di più Per quello Che si chiama Il mondo Dell'internet delle cose Internet of things Che è un altro Megatrend Tecnologico Questo mi interessa Questo è enorme Ne parleremo In una trasmissione Che poi ammortizzi Anche spese A quel punto lì Se lo gestisci Ma non solo Si ammortizza Ma saresti più preciso Io faccio Un esempio finale Sul terreno Di un oliveto Sapere quando è possibile Si deve Conciutare in che modo Il terreno Se ho un sensore Che ha queste capacità Di dialogare Velocemente Mi dà delle indicazioni precise Non spreco Lavoro al meglio E al tempo stesso Rendo più efficace Naturalmente Biologicamente parlando Quella parte di terreno Perfetto Ma per fare questo Tu devi avere Una tecnologia E il 5G Il 5G Permette Ordini di grandezza Del tipo Che su un chilometro quadrato Tu ci puoi mettere Un milione di dispositivi Quindi significa Che se i dispositivi Sono dei sensori In un chilometro quadrato Del Chianti Per esempio Della zona del Chianti Tu puoi Hai tantissime vigne Puoi mettere I sensori Per un certo numero Per chilometro quadrato E la tecnologia 5G Ti permette Di gestirli Senza andare in crash Quindi questo È molto importante Più dispositivi E così via Un'altra questione Importante Che caratterizza il 5G Sono le Diciamo Quelle si chiama L'affidabilità Cioè Non deve sgarrare Quindi affidabilità Al 99,999999 Periodico Di poter Essere utilizzato E non andare in crash Perché questo È importante Pensate per esempio A questo tipo di tecnologia Che si applica Alle auto Che si guidano da sole Le auto Che si guidano da sole Hanno alla base Una valanga Le tecnologie Anche queste Della IoT Però hanno alla base La possibilità Che tu Per poter Prendere decisioni L'auto Decisioni che spesso Hanno a che fare Con l'intelligenza artificiale Di cui parleremo Le auto Devono Coordinare In qualche maniera I sensori Che hanno a bordo Possono essere telecamere Sensori di parcheggio Sensori che ti fanno vedere L'auto davanti A che distanza è E così via Già alcune cose Parcheggiano da sole Quindi Sapere lavorare Nel più breve tempo possibile Queste informazioni Allora il punto Dell'affidabilità È importante Perché se io Assegno All'automobile Tutta una serie Di compiti Che sono umani Fermo restando La possibilità Dell'umano Della persona Di intervenire Sempre e comunque Altrimenti Saremmo schiavi Delle macchine E questo ci porta A discorsi più complicati Ma il punto Qual è È che Questo tipo di tecnologia Deve permettere Una assoluta affidabilità E questa affidabilità Serve per fare in modo Che quando sono in sorpasso Con una macchina Che si guida da sola O imparzialmente da sola Le due macchine O le macchine Che sto sorpassando Si tendono a parlarsi Per poter fare in modo Che il sorpasso Sia un sorpasso Fatto bene Ma la macchina Si deve anche L'automobile Si deve anche interfacciare Con la tecnologia Che ha intorno Se c'è un semaforo Se c'è uno stop Se davanti c'è un ostacolo E così via Allora la possibilità Di avere affidabilità È fondamentale Perché altrimenti Queste cose Che vogliamo fare Non le potremmo fare Quindi questo è il 5G Diciamo spiegato Veloce Ma sopra C'è uno standard Più evoluto Che permette queste cose Allora Con questa Grande possibilità La prima domanda è Noi che ci facciamo Con questa tecnologia Quali sono le applicazioni Le applicazioni sono Spaventosamente tante Pensate che Dietro ogni applicazione C'è un team di persone Ragazzi e ragazze Giovani Senior Che ci lavorano Che significa Mangiare pane D'accordo Ci sono applicazioni Che scatenano altre cose Quindi avere Prendiamo il caso Dell'agricoltura Diciamo Smart Chiamiamola smart Perché utilizziamo Queste tecnologie Come diceva Luca prima Io posso andare A inserire sensori A destra e a manca Nel mio campo E poter prendere Informazioni Per poi decidere Quando errorare il campo Come errorarlo Se devo intervenire Quando Decidere per la vendemmia Che è il momento Bigliore Perché questo mi viene dato Dai sensori Ovviamente Qui c'è una serie di ingredienti Che sono i sensori Che prendono i dati I sensori Devono essere Sensori fisico-chimici Perché devono Pegliare i dati Del terreno Quindi chi fa i sensori Sono chimici Sono fisici Sono ingegneri Che fanno questo Dopodiché questi dati Devono essere convogliati Ma i dati sono tanti Allora si parla di big data E quindi devono essere Elaborati da qualcosa Devono essere elaborati Da computer Ma i computer Sono a distanza Allora si comincia a parlare Di edge computing Cioè Non prendere i dati Scaricarli velocemente Spedirli con reti 4G 5G Che siano Arrivare a un megacentro di calcolo Dove un algoritmo Un programma Te li prende in pasto Te li modella E ti dà dei risultati Risultati che vanno Ai sensori O vanno a aprire Il rubinetto dell'acqua O vanno in qualche modo A mandare sul telefonino Al possessore del campo Al proprietario Dell'azienda Guarda che devi vendemmiare Il giorno tot Possibilmente anche Dalle ore tot in poi Questa sembra fantascienza Ma non lo è No Oggi invece L'edge computing Di cui parleremo anche Poi più avanti Ma per questo che Il nuovo motore di ricerca Della Microsoft Si chiama The Edge Edge significa Diciamo al bordo Al bordo Al bordo Ah vabbè Significa la frontiera Chiamiamola così La frontiera Sì Chiamiamola frontiera Per dire che una cosa È edging Di frontiera E così Però quindi Il concetto è Che i dati Possibilmente Quelli raccolti Soprattutto da una miriade Di diciamo Di sensori Non devono essere elaborati E trasmessi a valanga A un megacentro di calcolo Ma possibilmente Devono essere elaborati Localmente D'accordo Questo comunque è un concetto Che vedremo Torniamo al 5G Allora il 5G Si comincia sempre Con andare a fare Le installazioni Fare le installazioni Ovviamente del 5G Io non oso parlare Degli aspetti protocollari E diciamo E fisico-ingegneristici Perché ci vorrebbe Però vi voglio fare Un esempio Per far capire Alcuni concetti Allora il primo concetto Che se io devo Trasmettere delle informazioni Lo faccio con Dei trasmettitori Quindi il cellulare Parla con la sua Stazione base Che è un'antenna Tipicamente O una serie di antenne Messe su dei pali Parla E comunicano Poi con i centri Per il sbristamento Per fare in modo Che l'informazione Arrivi a un'altra Stazione base Dove poi c'è Il cellulare Quindi che ti copre La cella Diciamo Telefonica Questo spazio In cui La stazione base Trasmette Abilità E così via Un'altra questione Del 5G Dimenticavo E che Oggi Voi quando andate In treno O in macchina Spesso Un attimo Sto entrando In galleria Un attimo Mi succede questo Qui si parla Di Diciamo Segnali E di comunicazione Che possono Tranquillamente Continuare In perpetuo Anche quando Si raggiungono Velocità Dei 500 km Allora E si superano Quindi per esempio Un treno Iperveloce Un aereo E cose di questo genere Allora A questo punto Si parte con l'idea Il 5G Chi è che Prende La palla Al balzo E comincia a costruire Infrastrutture Di 5G Allora In Italia Già nel 2019 Furono definite Delle città Pilota Io ho qui un elenco Ma ce ne sono tante altre Per esempio Qui in questo elenco Mi manca Prato Milano Torino Bologna Roma In Napoli Ma c'era anche Prato C'era anche l'Aquila C'era anche Matera Perché l'Aquila Per la questione della Sismicità Ecco per esempio Avere molti sensori E permettere di comunicare Con il 5G Ti permette di rivestire I Diciamo una zona Dei building Dei palazzi Con dei sensori Cosa oggi Già oggi Possibile Ma questi sensori Ti trasmettono dati A dei modelli Prodittivi Per farti capire Se in quel momento È in corso Un'azione di degrado Dell'abitazione Del palazzo Quindi anche Prevenzione Utile Prevenzione totale Pensate a un'altra Applicazione Del 5G Pensate per esempio Alla L'ambulanza intelligente L'ambulanza che Comunica Velocissimamente Con Un incidente Uno avverte L'ambulanza Viene avvertita Di questo Immediatamente Cose che già esistono Però con velocità Diverse E a un certo punto L'ambulanza riesce A organizzare Il suo lavoro Interagendo Col centro Ospedaliero Più vicino Individuando Il medico Più vicino Situazione Ma tutto Con tempistiche A livello Diciamo Di velocità Impensabili Fino ad oggi Per non parlare Per esempio Di tutto quello Che riguarda La telemedicina Oggi è realtà Cioè La necessità Di evitare Di andare A congestionare Gli ospedali E le zone d'ospedale A parte poi Capire se gli ospedali Devono essere Giga ospedali In una zona E tutto il deserto Intorno O capire se gli ospedali Devono essere Importanti Ma con delle piccole Realtà Che vanno a De congestionare L'ospedale Queste sono questioni Organizzative Sanitarie e mediche Di cui si parla In queste ore Ma pensate al fatto Perché devo andare Io all'ospedale Soprattutto in periodi Diciamo Di pandemia Dove è rischioso Anche muoversi Eccetera Quando io potrei avere Un teleconsulto a casa Ma per fare Il teleconsulto a casa Io devo avere L'apparecchiatura a casa L'internet Dice delle cose Dei sensori Dei sensori Che ti permettano Essere adattate Sul corpo E la trasmissione Cioè per vedere Qualcosa in tempo reale Con un medico Che ti fa il consulto Tu devi avere Reti veloci Che ti permettono Di fare questo E non deve succedere Che se io sto facendo Il teleconsulto Il mio vicino di casa Fa lo stesso La rete non supporta Questo tipo di operazione Ecco l'importanza Della capacità Della larghezza di banda E della latenza Per la realtà Di questa operazione Allora a questo punto Abbiamo detto Già una serie Di macchine Che si guidano da sole Diciamo tutto Quello che riguarda Pensiamo per esempio Agli stormi Di droni Un drone a bordo Ha telecamere Sistemi Che vanno A monitorare Un certo Una certa zona Io voglio monitorare Per esempio Un'autostrada Un ponte Una cosa del genere Un drone Mi si arriva Mi arriva sul drone E comincia a fare Queste valutazioni Comunica con un altro drone Posto da un'altra parte Dell'autostrada Per cercare di capire Se questi due fenomeni Quello che hanno notato Possano essere messi In relazione Quindi le applicazioni Sono spaventosamente Tante Scusa Ma io sul mio cellulare Il 5G Quando arriva Lo posso usare O devo comprare Un altro cellulare Deve comprare Un altro cellulare Notizia Ne arriviamo Fra qualche secondo Allora Il punto quindi Qual è? Lei non naviga Il punto è che Nel modo In cui queste cose Si fanno Diciamo Ci sono ovviamente Delle Delle Importantissime Importantissime Situazioni Tu queste cose le fai Se hai l'infrastruttura Se non hai l'infrastruttura Non le puoi fare Quindi Il 5G Ci vorrà Tanto tempo Ancora Per arrivare Il 5G Si parla Del 2022 Come utilizzo Di tutte No Ancora di più Diciamo Io direi Ancora di più La 4G Convivrà Per un bel po' Di tempo Con il 5G Ora Il concetto Quindi qual è? Il concetto È che In questo momento Alcuni dati Open Di Open Signal Speed Test Che è un'azienda Che va a misurare Quanto veloci Siano sul campo Il 5G Le sperimentazioni Che per esempio Io qui ho preso Alcuni appunti Abbastanza recenti Danno Che Le maggiori velocità 5G Ottenute Sono velocità Che sono state ottenute Negli Stati Uniti Al secondo posto C'è la Svizzera Per esempio Gli Stati Uniti Hanno ottenuto Velocità Con 5G Ovviamente Qui stiamo parlando Del fondo scala In realtà Parliamo di velocità Come il tachimetro Tu A 240 250 A meno che Non abbia una Ferrari Su pista Non ci arrivi mai E qui parlano Di 1,8 gigabit Al secondo Negli Stati Uniti Secondo La Svizzera Con 1,1 gigabit Al secondo Poi si scende Al UK Alla Gran Bretagna 569 megabit Al secondo Però che è sempre Circa 1,3 Più veloce Del 4G Quindi c'è sempre Un avanzamento Quindi ci vorrà Del tempo Fino ad arrivare E in Italia In Italia Dicono che A Piazza Duomo Hanno fatto Una Una sperimentazione Con Vodafone Con un telefono LG V50 E hanno misurato 350 megabit Per secondo Quindi ben sotto Il primo 1 gigabit Di cui si parlava prima Ma ripeto È un fatto Iniziale E così via E così via Quindi il futuro Diciamo si parla Di 1 gigabit Al secondo Fino a un massimo Di 800 gigabit Al secondo Allora che succede All'elemento fondamentale Abbiamo visto L'infrastruttura Tutta nuova 5G Si parla Qui per esempio Di una grossa differenza Rispetto alle precedenti Cioè per esempio La trasmissione Avviene mediante Appunto Questi Diciamo Segnalatori Che mandano Onda elettromagnetica Eccetera Voi quando volete Parlare A una pletola Di persone Per esempio Non sapete Faccio un esempio Dove sia questa persona Cosa tendete a fare Cosa noi tendiamo Umani a fare Ci guardiamo intorno E Alziamo la voce Guarda Cercavo Alfredo Dove è Alfredo Alfredo dove sei Ti giri intorno Immaginate Questo girarsi intorno E alzare la voce Sia un oggetto Di comunicazione Oggetto di comunicazione Che è prodotto Da un Un trasmettitore Per esempio Nel caso del 5G Si evita di alzare la voce E si cerca di capire E interagire direttamente Col dispositivo Che in quel momento Ha bisogno di essere comunicato Quindi C'è una tendenza Alla Come dire Alla specializzazione Alla direzionalità Dell'informazione Che produce Una necessità Di non alzare troppo la voce Cioè Di non avere Delle onde Molto potenti Ma onde un po' Meno potenti Perché poi parleremo Della questione Dei problemi Che qualcuno ha sollevato Sulla salute Infatti Infatti Allora torniamo ai telefonini È stata presentata così Sì I telefonini I telefonini Sono ovviamente L'elemento fondamentale Ma non solo Perché ci sono tutti i sensori Di vario tipo Questo è sempre buono Quello Si va a lavorare Ora Se voi guardate Ci sono Valanghe Apple Asus Huawei HTC LG Tutti stanno producendo Telefoni 5G Tutti stanno buttandosi Su produrre Dei telefoni 5G Ora uno per tutti Ma anche perché Per altre Diciamo Interessanti Caratteristiche Che hanno Ma non è il solo È l'Apple L'Apple 12 Per esempio L'Apple 12 Pro È tutto quello Il Pro Il Mini Eccetera Cioè l'Apple 12 È già Si È già nasce Cattura C'è il 5G Come il 5G Perché cosa deve succedere Che nella scatola del telefono C'è un oggetto Che si chiama modem Che è quello Che permette di modulare Dei modulare L'informazione Trasmettendola Con la stazione base E questo modem Deve essere Aggiornato Al protocollo 5G Se quello Tu non l'hai Non puoi lavorare In questa maniera Questo è il punto Allora Queste aziende Si stanno Adoprando Per fare tutto questo E ovviamente Ne vedremo delle belle Perché i prezzi Oggi sono ancora Abbastanza alti Perché Trovare un 5G Intorno ai 500 euro Non è facile E se arriva Ai 1200 euro Quindi tipo Gli Apple Non solo perché hanno 5G Ma perché hanno altre feature Altre caratteristiche In generale Lo schermo Capacità di memoria Maggiore capacità Di storing Allora A questo punto Abbiamo discusso tanto Abbiamo discusso tanto E c'è una questione Che mi piace Affrontare Sono due questioni La prima Il 5G E la cosiddetta Geopolitica Voi avete sentito Parlare Che una grande Discussione Sull'approccio Di Huawei La grande Società Le grandi polè Stati Uniti Cina Stati Uniti Cina Siamo partiti La via della seta Noi aderiamo Eccetera Eccetera Ora c'è da dire Che le preoccupazioni Derivano dal fatto Che molti sollevano Diciamo Dubbi Sul fatto che Le grandi compagnie Cinesi Huawei ZTE Eccetera Siccome Realizzano Componentistica Per fare questa operazione I componenti Possono essere componenti Drogati Nel senso che Possono essere componenti Che permettono Di fare spionaggio Quindi pensate voi A che significherebbe Se ciò fosse vero Ovviamente Qualche dubbio C'è Però non è affatto detto Che altri non facciano uguale D'accordo A un certo punto Cosa succederebbe In un mondo totalmente connesso In cui io so tutto di tutti E i miei apparati Che sono la base del 5G Che fanno parte dell'infrastruttura Sono i primi spioni Perché agli spioni Si aggiungono gli spioni Quelli che non si vedono Nei dispositivi Nei cellulari E così via Allora questo è un problema Geopolitica Che fa sollevare Per esempio Questione Avete sentito parlare Di golden power Che significa Che lo Stato In questo caso Lo Stato italiano Si come dire Protegge dal fatto Che tu costruisca Una rete per l'Italia Tu azienda X o Y E mi devi dire esattamente Dentro che ci metti Dentro che ci metti O devo certificarlo Dopodiché io posso anche Anche diciamo Utilizzare questa golden power Per dire no Tu questo non lo fai Perché Perché possono esserci Di rischi Per la sicurezza nazionale Un altro problema enorme E che la questione È legata Alla diciamo Sicurezza Alla sicurezza Delle persone Il 5G È pericoloso Per la salute Per cui bisogna fare Un discorso generale Prima di cercare Di derivare Una risposta Che non c'è Una risposta immediata Però ci sono Diciamo Tante posizioni Che bisogna mettere Sul campo Affinché Democraticamente Poi si possa decidere Facendo sempre campo Che non puoi Stare poi troppo In distante A discutere Perché mentre tu discuti Gli altri costruiscono E allora potrebbe succedere Che tu rimanga indietro La tua industria nazionale La tua pubblica amministrazione Rimani indietro Ma questo è un discorso Che vediamo fra qualche minuto Ora il punto quindi Qual è? È che Tutti i campi Elettromagnetici Di natura artificiale Cioè quelli non Derivati dal movimento Della terra Eccetera eccetera Tutti questi Hanno a che fare Hanno degli impatti Sull'ambiente Che ci circonda Allora Si creano Dei concetti Come quello di Eletro smog Cioè il fatto Che noi Siamo di fatto Circondati Da forni a microonde Da smart metering Cioè quelli che mi sono L'energia elettrica I televisori I strumenti Che emettono onde magnetiche Si Le wireless Che c'è in casa Tutto quello che emette Onde elettromagnetiche La domanda è Fermo restando Alcune soglie definite Come per esempio In Italia Che ci sono 6,1 volt per metro Che misura L'inquinamento Diciamo Il carico 5G è arrivato Il carico A un certo punto Paolo Fontanelli In tutti i nostri studi Ciao Paolo La situazione quindi È legata al fatto Che tutto questo Allora La domanda che viene Posta da alcuni È che Tutto questo aumento Di onde elettromagnetiche Che sarà generato Da una tecnologia Come il 5G Che diventa Che aumenta Il numero La densità di dispositivi In un metro quadro In un chilometro quadrato Le antenne Che andranno A essere inserite In tutti i posti Per poter essere Diciamo Utilizzare Utilizzare Altrimenti Non serve Questo Non rischia Di creare Ulteriore Eventualmente Problema Se non danno A chi Questo tipo Di tecnologia Si trovi In mezzo Quindi ti trovi A dover Diciamo Questa è una domanda Importante Perché ci sono Degli studi Operati Per esempio Da Da importanti Importanti realtà Legate all'OMS Poi ci sono anche Studi legati a chi Telefonini produce Che sono ovviamente Un pochettino Più di parte Parere tecnico di parte Però che dicono Effettivamente Che bisogna Metterci un po' di cautela Ci sono delle questioni Di igiene Che la gente non sa E che bisogna dire Per esempio Telefonare in macchina Con i finestini chiusi È un errore Perché la macchina Ti crea Un effetto Di gabbia di Faraday Cioè La gabbia di Faraday I segnali Non escono Rimbalzano all'interno E come stare In un piccolo forno A microonde Tant'è vero Che il forno A microonde Funziona A 2,45 gigahertz Ma anche col telefono Attaccato invece Alla macchina Il problema è che Il telefono Emette Emette Anche col bluetooth Certo Emette delle Quindi mi da Per il finestrino O mi da fermarsi Sarebbe opportuno Telefonare qua Tutto vale Come al solito Un granusalis Se tu telefoni Per qualche minuto Ma se tu Parti da Pisa E vai a Firenze E per un'ora Stai a chiacchierare Beh probabilmente Ti becchi un sacco Ne conosciamo Di persone Che non staccano Questo è un discorso Ovviamente No allarmismi Ma sono roba Di buona creanza Quindi stare Il solito discorso Non è tanto Starci esposti Ma starci Quanto esposti Esattamente Allora quindi Il concetto è Poi si sposta Sui problemi Delle cosiddette Onde elettromagnetiche Ionizzanti O non ionizzanti Che significa Tu qua Non stare al sole Perché non devi stare al sole Perché Le onde elettromagnetiche Diciamo Con una frequenza Iners Di 10 alla 15 Significa Che in un secondo Tu hai l'onda Che ti fa 10 alla 15 Sarebbe 1000 per 10 alla 12 Sarebbe Un milione Di milioni Un milione Di milioni Di oscillazioni In un secondo Quello ti fa male I raggi cosmici Se non protetti Della ionosfera E tutto quanto Fanno male Questo si sa Quello che si sa meno È che Le radiazioni Non ionizzanti Che significa Quelle che non vanno A pigliare Un atomo Tipo il DNA E te lo disgregano E ti fanno avere Il tumore Il cancro Il problema Del melodoma Dal cervello Per esempio Il fatto che il telefonino Non devi tenerlo Attaccato al cervello Perché poi Alla l'orecchio Per troppo tempo Perché Quindi neanche le cuffie Vanno bene Le cuffie Vanno bene Perché Diminuiscono Un attimo Diminuiscono In qualche maniera La media è di la voce Sì Sì Infatti il telefono Vedete spesso persone Che parlano In questo Io spesso faccio Viva voce Tutto dipende Da quanto si telefona Per quanto tempo Si telefona Queste sono problematiche Sul campo Io Prima che questa amministrazione Sono stato chiamato Dall'assessore Bugli Come CNR Ho messo in piedi Un piccolo Gruppo di persone Siamo andati Un paio di volte Perché l'assessore Bugli Assessore al digitale Riceveva Da alcuni sindaci Domande Dice mi stanno tirando Per la giacchetta Per andare a inserire Reti Cioè Antenne A destra e a manca Sulla chiesa Sulla statua Diciamo Di Garibaldi Ma io che devo fare Sto 5G Mi fa male o no Allora noi abbiamo Cominciato Avviato Anche con l'ARPAT Diciamo Toscana Una serie di considerazioni Un gruppo Una task force Che potesse cominciare A discutere su questo Per dare delle linee guida Ai sindaci Che si trovano poi Convolti In prima battuta Come per altre questioni Purtroppo Queste sono questioni Quindi aperte Allora Quello che si dico Perché stiamo vicini alla fine Non facciamo allarmismi Su questo Ragioniamoci Facciamo tutto Le cose con Granosaliz Perché anche le attuali Tecnologie Il telefonino Se è usato male Ti può provocare problemi D'accordo Non ci dimentichiamo La famosa Diciamo La causa Intentata Da un manager Aivrea Che poi ha vinto Perché aveva contratto Un tumore Eccetera Ci sono delle questioni Che ci devono Lasciare un po' preoccupati Non preoccupatissimi Ma devono fare in modo tale Che noi discutiamo Poi La democrazia L'impatto E l'equilibrio Fra la parte economica La parte sanitaria Che noi viviamo Drammaticamente In queste ore Fa tutto il resto Perché deve essere Perché deve essere sempre Un processo democratico Ma guidato Da dati oggettivi I dati oggettivi Dicono In questo momento Prodotti Da alcuni organismi Vicini all'OMS Che non c'è da preoccuparsi O c'è da preoccuparsi Pochino Altri dicono Che non c'è da preoccuparsi Affatto E io personalmente Diciamo Sono un po' scettico Su questo Però ripeto Questa è la situazione Quindi il 5G Cambierà Le nostre esistenze Le cambierà In maniera Notevolente E diciamo Si arriverà Poi a situazione Per la quale Alcuni Diciamo Ben pensanti Imprenditori Stanno cominciando A dire Ma noi Per poter comunicare Con tutto Con tutto In maniera senza fili Potrebbe essere bello Che noi Spariamo Intorno alla terra E facciamo viaggiare A distanza I 300 E i 1000 chilometri Quindi a distanze basse Dei satelliti Che sono come se fossero Dei piccoli Trigoriferi Diciamo Piccolini Piccoli Che girano E in qualche maniera Ogni centimetro quadro Della terra Può essere Questo Ha degli effetti Spaventosi Se uno ci pensa Anche in termini Di inquinamento Diciamo Dello spazio Che è già inquinato Che è già abbastanza inquinato Però uno pensa anche Al contrario La possibilità Che può connettere Tutto con tutti E soprattutto Nei paesi Del terzo mondo Del quarto mondo Dove non esistono Le infrastrutture in fibra E nessuno pensa Di mettersi a fare ora Perché costerebbero soldi Che vanno a togliere I budget di questi paesi La vendibilità Hanno bisogno Di stare in piedi Di mangiare Della sanità Della prima necessità Bene Tutte queste cose Fanno sì Che questo tipo Di tecnologie Potrebbero aiutare A portare la comunicazione Imposti come questo Paolo Fontanelli E tra poco presenteremo il tuo libro Che bisogna Bisogna fare i conti Che queste potenzialità Che queste potenzialità Ma sono fra quelli che in realtà i libri Lo chiamerai Mimmo è fondamentale Lo leggo per diverse ragioni Prima perché è coscritto da Paolo Ci sono degli autori Coatori molto importanti Per Pisa in particolare E perché poi sono un curioso E questa è la prima ragione La seconda ragione È che vivendo E dando Vendo a Pisa Tutto quello che ho È di fatto È un motivo Che in più Per dare qualcosa alla città Bene Grazie Mimmo A martedì prossimo Grazie a tutti Sei già all'argomento Mimmo Sono indeciso Se parlare Di internet delle cose E poi parlare Degli assistenti vocali Ehi Google Ehi Alexa Me l'hanno portata anche a casa È una spia o no? Non ti voglio anticipare È una rompista È una rompiscato Un po' di trilli che ci vuole sempre Ciao Mimmo Grazie Grazie a te Sigla Alfabeto digitale Per parlare del mondo digitale E delle sue principali applicazioni La trasmissione Ideata dal professor Domenico Laforenza Allo scopo di informare Con un linguaggio semplice E diretto Gli ascoltatori Su